Le poltrone nei CDA, la nomina degli articoli 90 e tutto ciò che può essere oggetto di una lottizzazione deve essere distribuito attraverso artifici di equilibrismo tra forze politiche e singoli consiglieri per mantenere in vita la giunta tedesco alla faccia dell'interesse della comunità amministrata. Così i consiglieri del Partito Democratico e Carlo Tarantino commentano il consiglio comunale di ieri. Nello specifico fanno riferimento alla votazione per l'inversione dell'ordine del giorno, bocciata dalla maggioranza, sulla definizione di un nuovo piano attuativo per insediamenti produttivi di piano regolatore su terreni di proprietà dell'autorità portuale. In parole povere, l'atto aveva l'obiettivo di cambiare la destinazione d'uso delle aree per candidare il retroporto all'insediamento di imprese interessate a trarre vantaggio da un'agevolazione logistica che possa abbattere i tempi di spedizione delle merci e di costi legati ai trasporti. Per portare al primo punto dell'ordine del giorno la mozione, spiegano i consiglieri Piendibene, De Angelis, Di Gennaro, Scilipoli e Tarantino, abbiamo chiesto un'inversione, forti dell'assenso dell'assessore competente Roscioni. Sembra però che le priorità di questa coalizione siano altre, concentrate prevalentemente sulle questioni pratiche. Immediata la replica da parte del capogruppo e coordinatore della Lega Antonio Giammusso. Dispiace che i consiglieri della PD non abbiano voluto comprendere il senso del voto di ieri. Stupisce e amareggia che a tale mancanza di comprensione si aggiunga anche la strumentalità nell'accusare la maggioranza a sostegno del sindaco tedesco di ostacolare gli interessi della città. Secondo il Salviniano, oggi il porto e la città viaggiano e lavorano assieme e presto partiranno dei lavori che sono il frutto concreto di questa sinergia che il sindaco tedesco da una parte e il presidente Mussolino dall'altra hanno saputo creare instaurando un rapporto diretto e basato sulla franchezza mettendo seduti allo stesso tavolo i rispettivi tecnici in maniera permanente. Respingiamo quindi al mittente il maldestro tentativo di creare tensioni a scapito del territorio afferma Gianmusso anche perché come è noto il Consiglio Comunale presto si riunirà in una seduta straordinaria e aperta alla presenza anche del presidente Musolino per discutere non solo della questione del PIP ma su tutto il porto.